buongiorno sono al fiero santarelli sono account manager e consulente atlassian di atesistemas impresa che da quest'anno è partner di scale da giant noi ci occupiamo di attività di consulenza e di trasformazione digitale e da poco tempo ci siamo avvicinati al mondo safe ma grazie a questo nostro ruolo di consulente e di fornitore di soluzioni siamo stati chiamati da diversi clienti per accompagnarli nei loro progetti di trasformazione in certi casi solo per curare la parte di tooling in quanto appunto siamo specializzati in strumenti come gira e questo ci ha dato un'occasione una possibilità unica di toccare con mano applicazioni reali del framework safe quando già stavano funzionando o quando già erano in procinto di essere lanciate e proprio in virtù di questo io vorrei in questo mio intervento raccontare alcune casistiche che abbiamo osservato alcuni alcuni aspetti pratici dell'implementazione alcuni diciamo anche errori trappole in cui determinati clienti cadono e al tempo stesso alcuni aspetti molto positivi dell'adozione di safe da parte delle aziende italiane prima di tutto una cosa che personalmente mi ha colpito è stato vedere come le aziende almeno quelle con cui ho potuto lavorare abbiano accettato con una certa facilità safe come sinonimo dell'agile cosa intendo con questo? innanzitutto sappiamo che esistono vari framework che funzionano secondo diverse logiche anche diversi framework di scaling ma è proprio safe che è stato riconosciuto come la naturale estensione dell'agilità ai vari livelli dell'organizzazione e vorrei vorrei citare il caso abbastanza recente di un'azienda con cui ci siamo confrontati che nel primo incontro ha iniziato a introdurci il suo processo di trasformazione e con queste parole la nostra azienda ha iniziato un percorso di trasformazione verso l'agilità più specificamente nella forma di safe questo che può apparire banale è in realtà molto importante in questa fase perché significa che dal punto di vista della mentalità di un'azienda strutturata safe viene recepito facilmente e dico questo per contrasto con quello che è stato quella che è stata la resistenza verso il paradigma scrum che per molti anni è stato considerato come una cosa da tecnici non dimentichiamo che scrum viene comunque dal mondo dello sviluppo ed è assolutamente una cosa nobilissima però questo ha fatto sì che appunto fosse considerato dal business come una cosa valida e applicabile solo agli sviluppatori invece safe sembra riflettere perfettamente la mentalità anche delle figure di business questo forse per il fatto che permette di riflettere le funzioni di una gerarchia senza smontare la gerarchia stessa e che permette anche di definire dei ruoli all'interno dell'azienda a seconda delle funzioni cosa che invece la struttura molto flat di scrum inevitabilmente tende a disturbare in ogni caso ciò che abbiamo potuto vedere è che molti diversi clienti sono stati in grado di applicare il framework safe alla propria realtà organizzativa senza bisogno di aiuto esterno e dico questo anche con un certo dispiacere in quanto consulente tuttavia è un fatto che anche grazie all'aver pubblicato in maniera aperta e gratuita i dettagli del framework sul sito di Scale Agile le persone studiando tutti gli aspetti applicativi sono state capaci di iniziare le prime fasi dell'implementazione quelle che soprattutto per aziende di media scala possono essere sufficienti per realizzare l'essential safe e devo dire che sicuramente c'è un caso di eccellenza di un nostro cliente che quando è entrato in contatto con noi aveva già definito i propri value stream aveva tracciato la struttura dei propri art dei propri agile release train aveva e tuttora dispone di un lean agile center of excellence quindi di un lace un gruppo di persone dedicate alla promozione di questa cultura internamente all'azienda ma addirittura aveva iniziato già in quella fase a definire il proprio lean portfolio ecco qual è il nostro ruolo in questi casi è quello di affiancare il cliente e soprattutto aiutarlo in una revisione dell'applicazione del framework capendo qual è la direzione giusta per evitare di incappare in determinate trappole una cosa che sicuramente ho osservato è che le aziende che già avevano al proprio interno una cultura agile sviluppata hanno saputo crescerla in forma organica e realizzare quindi un vero e proprio agile scaling uno scalamento agile verso l'alto e quindi gestire la trasformazione in modo fluido viceversa quelle aziende che hanno deciso di imporre il framework in modo top down hanno inevitabilmente incontrato una maggiore resistenza al cambiamento e soprattutto sono cadute nella tendenza di replicare la propria struttura organizzativa preesistente semplicemente applicando delle nuove etichette prese dalla guida di SAFE a cose che nella loro azienda erano già presenti andando sul pratico io posso dire che visto che molto spesso un'attività che ci viene richiesta è come modellare la struttura dei requisiti sia in aziende industriali che in aziende IT proprio nella modellazione della struttura dei requisiti vediamo scattare questo tipo di riflessi di conservazione dell'esistenza e di resistenza al cambiamento per cui non si fa altro che ripetere ciò che era la vecchia impostazione waterfall e gerarchica in quello che dovrebbe essere un nuovo contesto con nuovi nomi più in concreto i requisiti si pensa proprio a un breakdown dei requisiti rigoroso partendo dai livelli più alti e spacchettandoli in cose da fare e questa non è altro lo dico per i project manager che la work breakdown structure mentre SAFE non funziona in questo così ma quello che è peggio si fa un roll up degli story points dando per scontato il fatto che comunque le persone che mi stanno ascoltando partano da una base di conoscenza dell'agile sappiamo che gli story points sono una misura di complessità ma ciò che alcune aziende fanno malauguratamente è utilizzarli come un proxy, come un'approssimazione come un'approssimazione